salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi vi farò vedere come si fa l'attivazione delle lancette diciamo della rappresentazione delle lancette che arriva fino a fondo scala cioè diciamo il test del lancetto oppure il net sweep oppure il gauge test ci sono vari nomi di come si trova sulla rete questa stessa dicitura della configurazione in corso che adesso andiamo a fare in questo caso non è ancora attiva adesso vi farò vedere spegniamo il quadro della macchina lo riattiviamo il quadro vedete che le lancette non vanno fino a fondo scala né quelle del contagio né e quella del controegnometro per attivare questa funzione qua come sempre abbiamo bisogno del nostro WCDS collegato alla macchina da avere il cavo perfetto prima come sempre vi consiglio prima di andare direttamente all'interno della centralina stessa andiamo in controllare andiamo a controllare tutte le centraline andiamo a fare una piccola scansione della centralina delle centraline della macchina in questo caso come vi dicevo è una Audi A1 una 8X facciamo scannerizza dopo fatto ciò ci compaiono tutte le centraline andiamo anche se non esce nessun errore in questa macchina non esce nessun errore andiamo sempre a cancellare i guasti eventualmente qualsiasi guasto anche all'interno del cruscotto e quant'altro andiamo a chiudere questa questa è la scannerizzazione tutte le centraline andiamo in selezionare perfetto andiamo nella 17 cruscotto e siccome questo qua è un adattamento non è una codifica noi andiamo nella 10 qua adattamento perfetto perfetto e andiamo ad aprire questo menu di tendina siccome questo qua è il sistema che ho stato utilizzando delle WCDS in italiano a me non esce come in inglese è scritto staging ma esce scritto qua rappresentazione andiamo a selezionare rappresentazione in questo menu vedete perfetto e in questo caso come abbiamo ben visto non è attivo andiamo qua andiamo in attiva adattare sostituire il valore si perfetto centralina adattato accettato la richiesta ok perfetto valore nuovo salvato ecco qua attiva andiamo adesso usciamo dalla centralina usciamo anche da questa centralina qua e andiamo a controllare se questa codifica o comunque questo scusate adattamento si è attivato per giustamente per controllare se questo adattamento ha funzionato dobbiamo chiudere la macchina chiudere da ogni modo si la macchina e adesso lo fa con me dentro chiuderò la macchina perfetto attiverò cioè aprirò un'altra volta la macchina aprivo la macchina così perfetto e andrò a accendere il quadro guardate vedete perfetto e adesso ogni qualvolta andremo a chiudere la macchina e quindi ad accendere il quadro si farà il check delle lancette adesso a finire che non lo fa perché già la macchina è aperta ma solo in principale modo lo fa quando la macchina apriamo la macchina proviamo ah lo fa sempre perfetto ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e comunque che sia stato utile come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale a condividere il video attivate la campanella per essere sempre attivi sui miei nuovi video e commentate nei commenti qualsiasi cosa vi possa essere utile ok ragazzi grazie 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 grazie